Siamo Elia Bossi, una partita importante risolta con un 3-1 Modena che sta ritrovando il suo gioco Sì, è stata una grande prova di squadra stasera Abbiamo giocato bene, siamo stati, abbiamo avuto alti e bassi, siamo stati nei bassi Siamo stati bravi a uscirne Per te partire dal primo minuto adesso diventerà una consuetudine Vista anche l'operazione di Matteo, che responsabilità senti? Io voglio iniziare in campo, voglio dare tutto alla squadra e voglio fare bene tutte le domeniche E vorrei poi dire una cosa per Matte Matte è un giocatore molto importante per questa squadra Che è sempre con noi Abbiamo tanto da imparare tutti quanti su di lui E gli auguro anche una pronta guarigione per l'intervento che avrà domani Egli ha puesto...